Le luci dell'alba riaccendono la voglia di avventura e il viaggio di Aldo riprende di primissimo mattino alla volta di Mopti, un importante portofluviale situato sulla confluenza del Bani col Niger. Lascio andare, sbatte contro il buio e io sto al via a guardare. La mente vaga, vaga vagamente, sto perdendo il filo, mi perdo dolcemente, mi sfilo anche dal tempo e punto verso il niente. E sono attimi alla delire, e sono attimi che non ci sei più, ma sono attimi. Sono un fiume, sono un sole, sono niente, non c'è da pensare. La corrente va, la lascio andare, ai suoi ricami da ricamare. La mente vaga, vaga vagamente, sto perdendo il filo, mi perdo dolcemente, se si foda anche il tempo, io punto verso il niente. E sono attimi alla delire, e sono attimi che non ci sei più, sono attimi di meraviglia cristallina, e sono attimi che durano una vita intera, e sono attimi che non ci sei più, ma 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 non ci sei più. Non ci sei più, ma non ci sei più, ma non ci sei più, ma non ci sei più. Grazie.